Il 7 aprile del 1973 nasce a Milano Marco del Vecchio, attaccante eclettico, vice campione d'Europa con la nazionale di Dino Zoff ad Euro 2000. Prodotto delle giovanili dell'Inter, dal 1992 entra nel giro dell'Under 21, partecipando a due campionati europei alle Olimpiadi del 1996 ad Atlanta. Convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore il 16 dicembre del 1998 in occasione dell'amichevole contro la rappresentativa delle World Stars, si mette in luce con la maglia della Roma, diventando un punto fermo dell'11 di Fabio Capello, che si aggiudica allo scudetto 2000-2001. Da bomber d'aria di rigore, nel corso degli anni si trasforma in un'ala d'attacco utile anche in fase difensiva. Anche per questo il CT Zoff lo convoca per la fase finale di Euro 2000, dove del vecchio lascia il segno realizzando la prima rete in azzurro proprio nella finalissima, persa poi al Golden Goal contro la Francia. Presente anche ai mondiali di due anni dopo in Corea e il Giappone, il 18 febbraio del 2004 conclude la sua esperienza con l'Italia nell'amichevole contro la Repubblica Ceca, dopo aver totalizzato 4 gol in 22 presenze. Grazie a tutti.